Sinceramente ci dispiace un po' a tutti quanti perché penso proprio per quello che hanno fatto vedere questi ragazzi quest'anno l'avrebbero meritato. Però purtroppo ci siamo incappati in questa cosa a fine stagione. Io ti dico la sincera verità, sono orgoglioso di questi ragazzi perché ci sono ragazzi che hanno fatto sette partite in 15 giorni, mancando un minuto e sono esausti. Mi dispiace che purtroppo per finire il campionato abbiamo dovuto giocare ogni due giorni perché altrimenti magari ancora avevamo forse qualche speranza. Però arrivi in un certo momento che quello che ti interessa è che non si facciano male perché abbiamo raschiato dal fondo del barile tutte le loro energie. Mi dispiace se è andato a finire così, però orgogliosissimo di questo gruppo. C'è qualcosa a parte il Covid durante la stagione che le fa venire il rammarico per come è andato a finire? Noi abbiamo fatto bene per lunga parte del campionato, poi c'è stato un periodo dove in sei partite abbiamo raccolto poco per quanto seminato. In quel momento lì forse abbiamo pagato un attimo un po' di stanchezza e non siamo riusciti magari a fare anche un mercato per rinforzare la squadra. Quindi questi ragazzi si sono stretti, quelli che erano tutti insieme, cercando di dare il massimo. L'obiettivo l'avremmo raggiunto sicuramente lo stesso, però purtroppo poi è capitato questa cosa qui e non ci siamo riusciti. In questi giorni anche il suo nome è stato avvicinato ad altre società. Nel futuro di Mister Di Fabio c'è ancora Castelnuovo o è da vedere e da parlare adesso a fine campionato? Adesso ci mettiamo a tavolino con la società e vediamo quello che c'è da fare, quello che la società vuole fare prima di tutto. Poi dopo decidiamo il futuro. Sì, qualcosa c'è stato anche per me e niente. Io ho sempre detto a tutti che la prima cosa in questo momento era finire il campionato degnamente migliore dei modi e poi avremmo parlato di futuro, senza dubbio prima di tutto il Castelnuovo.